Ciao e benvenuto nel mio canale. Io sono Chiara e sono un'insegnante di lingua e cultura italiana per stranieri. In questo video ti spiego i pronomi indiretti. Osserva questi esempi. Sto rispondendo a loro. La politica non interessa a lei. Tutte queste frasi hanno un oggetto indiretto, cioè i verbi di queste frasi rispondono alle domande a chi? A che cosa? Telefono a chi? A Paolo. Voglio bene a chi? A te. Scrivo a chi? A Marina. Lo zabaione non piace a chi? A me. Posso chiedere a chi? A voi. Puoi chiedere a chi? A noi. Sto rispondendo a chi? A loro. La politica non interessa a chi? A lei. Possiamo sostituire l'oggetto indiretto con i pronomi indiretti. In questo modo. Telefono a Paolo. Gli telefono. Voglio bene a te. Ti voglio bene. Scrivo a Marina. Le scrivo. Lo zabaione non piace a me. Lo zabaione non mi piace. Posso chiedere a voi? Vi posso chiedere? Puoi chiedere a noi. Ci puoi chiedere. Sto rispondendo a loro. Gli sto rispondendo. La politica non interessa a lei. La politica non le interessa. I pronomi indiretti sono Mi, ti, gli, le, ci, vi, gli. Vediamo altri esempi. Amo Carla e le chiederò di uscire con me. Ti piacciono le vongole? Ci interessa il calcio. Domani vi mando un'e-mail. Non trovo Marco. Gli telefoni? Mi puoi rispondere, per favore? Sandro ha detto che non ti vuole più bene. Non vedo Lisa e Gianni. Gli puoi scrivere un messaggio? Vediamo i pronomi indiretti con i tempi composti. Ad esempio, con il passato prossimo. Hai telefonato a me? Mi hai telefonato? Ho telefonato a te. Ti ho telefonato. Ho telefonato a Paolo. Gli ho telefonato. Ho telefonato a Maria. Le ho telefonato. Gli ho telefonato. Ho telefonato a Maria e Carla. Gli ho telefonato. Gli ho telefonato. Quindi, qual è la regola per i pronomi indiretti più i tempi composti? Ad esempio, il passato prossimo. Non concordare in genere e numero. Tutto rimane uguale. Gli ho parlato. Gli ho parlato ieri. Gli ho parlato ieri. Le ho parlato ieri. Vuoi ricevere le slide di questo video? Iscriviti alla mia newsletter dal sito italianoconchiara.it e ti manderò il link alla pagina dove potrai scaricare le slide. Vuoi finalmente capire e parlare bene l'italiano? Vuoi raggiungere il livello C2? Se il video ti è piaciuto metti un like. Inoltre, ti ricordo di iscriverti al mio canale dove puoi trovare tanti video interessanti. Se vuoi studiare e parlare l'italiano online con me, visita il mio sito italianoconchiara.it e contattami con un'e-mail per prenotare la tua prima lezione. A presto!